Una giornata significativa, emozionante, quella vissuta dai fedeli, dai pazienti e dal personale del Neuromed. La veste che padre Pio indossò il 20 settembre del 1918, il giorno in cui il santo ricevette le stimmate, ha fatto tappa nelle corsie della clinica di Pozzilli. Una scelta non casuale, questo ospedale è un luogo di sofferenza, tra l'altro a pochi passi dal convento di Benafro, dove il frate di Pietrelcina visse dei giorni critici, forse tra i più difficili della sua vita. Benafro è uno dei luoghi segnati proprio dalla presenza di padre Pio, ed era e ci sembrava doveroso portarlo anche qui. E poi in questo luogo anche particolare, come questo ospedale, dove possiamo dire ci sono tanti stigmatizzati, ecco, segnati, stigmata significa segno, e la malattia, la sofferenza è un segno, un segno non di abbandono da parte di Dio, neanche un segno di maledizione, ma un segno che, vissuto nella fede, diventa segno a volte anche di benedizione. In quel segno noi possiamo cogliere il segno della presenza di Dio che ci è vicino e che soffre insieme con noi. Dopo la messa celebrata dal vescovo di Sernia Venafro, Monsignor Camillo Cibotti, il saio dell'estimmate è stato portato nelle corsie della clinica. È grande stata l'emozione per il direttore sanitario del neuromed Orazio Pennelli, tra l'altro pronipote del santo di Pietrelcina, fu proprio padre Pio a suggerirgli di diventare medico. L'abbiamo voluto fortemente questo momento, perché è uno dei pochi luoghi di cura in cui arriva il saio di Sampio. E poi arriva in una istituzione che è vicino a un santuario, il convento di Venafro. Il convento di Venafro è stato nella vita di Sampio uno snodo importante. Nella vita spirituale e nella vita materiale, nella sua vita umana. E lì ha maturato, a parte, lui lo chiama proprio il periodo più scuro della sua vita, perché sembrava che il Signore l'avesse abbandonato. Invece no, il Signore gli era vicino e qui ha maturato la convinzione, la certezza che gli era vicino. E qui ha maturato il germe dell'ospedale. Cioè lui ha qui generato l'idea del rapporto verticale con il Signore, e quindi dei gruppi di preghiera di padre Pio, e del rapporto orizzontale con gli uomini. Cioè il sollievo della sofferenza.